Ben trovati, nuovo appuntamento con Capannori Notizie. In questa puntata vogliamo parlare di turismo, delle bellezze di questo territorio, in particolare le bellezze naturalistiche. Capannori Notizie Capannori Notizie Capannori Notizie Ci vive, ci vive quindi ci passa la notte e apprezza quelle che sono le bellezze. Nel nord abbiamo le ville e nella zona sud abbiamo, oltre a qualche villa, abbiamo anche tutto un sistema di caratteristiche più naturalistiche, ambientali, ornitologiche, di varietà particolari di piante. E quindi ritorno alla questione Camelia, fino ad arrivare nel compito avvorno all'osservatorio astronomico. Ecco, come intendete nel concreto valorizzare queste risorse e promuovere questo tipo di turismo? Credo che il Comune abbia il compito di coordinare tutti i soggetti che poi fanno turismo, quindi intendo le associazioni, gli albergatori, i ristoratori, è così? È così, chiaramente non deve rimanere solo in una logica comunale in senso stretto, ma il lavoro che stiamo portando avanti è un lavoro anche di area. Da una parte la piana di Lucca e quindi deve essere un sistema lucchese nella promozione turistica, dall'altra deve essere anche, per quanto riguarda i Monti Pisani, stiamo dialogando e stiamo costruendo progettualità anche con i comuni che sono sui Monti Pisani. Tra questi c'è il Comune di Lucca e il Comune di Capanno e rimanano anche diversi comuni del Pisano, proprio per sviluppare progettualità, sviluppare progetti che siano progetti di rete e di sistema, perché la promozione turistica per queste tipologie non è una promozione che facciamo nel Capannorese o nel comprensorio provinciale, è una promozione che dobbiamo fare a livello internazionale, a livello europeo e a livello internazionale, proprio anche per quella che è la posizione di Lucca, oggi una posizione particolarmente baricentrica rispetto a Firenze, Pisa, Siena, rispetto al mare, rispetto alle montagne dell'Appennino e rispetto a quelle che sono le opportunità che un territorio come il nostro può offrire. Allora cerchiamo di conoscere meglio questo luogo straordinario, il Lago della Gerardesca, siamo in compagnia di Manuel Serrantoni dell'Associazione Officina Natura. Buongiorno Manuel, ci spieghi un po' che cos'è questo lago, quali sono le bellezze di questo splendido scenario, perché vedendolo già così si intuisce le caratteristiche, però ci spieghi un po' meglio? Sì, questo è un ambiente bellissimo, è tornato a essere un'area naturalizzata da poco, siamo sulle sponde di quello che era il lago di Bientina e dopo la bonifica qui era rimasta una zona palustre, poi nel 1935 è stata bonificata anche questa, era un pollino, un bosco umido, e poi da alcuni anni si sono rotte le idrovore che mantenevano questo luogo asciutto e è tornato il lago. Questo lago si è visto subito diventare importantissimo perché si trova sulle rotte migratorie e quindi la vifauna trova qui un punto di sosta molto importante, tanto importante che rende l'area bellissima anche dal punto di vista di chiama fare il bird watching per esempio, perché in inverno possiamo arrivare a contare anche numerosissime specie, oltre 50 specie diverse nello stesso giorno. Questa è un'area importante, nidificano varie specie di uccelli, tra migratori e nidificanti possiamo ammirare qui svassi maggiori, tuffetti, per citarne alcuni ma anche corciglioni, gli anatidi sono in maggioranza, troviamo spesso anatre, moriglioni, morette, anziché marzaiole, a volte si può vedere il fistione turco che è un pochino più particolare, raro il gufo di palude, la poiana, insomma una grandissima ricchezza di animali. Soltanto uccelli oppure ci sono anche pesci, visto che è un bel lago e ci sono anche piante particolari, non possiamo descriverle tutte, però per far capire i nostri telespettatori. No, qui a parte i pesci che vivono nel lago e che danno nutrimento soprattutto agli aironi, diciamo, ma sono le specie, quelle classiche, ci troviamo dei cavetani, delle carpe, però la particolarità per esempio è data anche dal fatto che facendo una passeggiata intorno al lago della Gerardesca troviamo anche ambienti diversi, passiamo da Biscini al Bosco di Querce, abbiamo l'area umida con il canneto, c'è tutta una zona circondata, diciamo così, da ontani neri, c'è un po' l'ambiente delle aree palustre di palude, di pianura, scusami, e quindi insomma una ricchezza anche di varietà. Senti, allora se abbiamo un'ultima cosa, abbiamo fatto venire magari un po' di curiosità ai nostri telespettatori, forse anche di Lucca, che non conoscono questa realtà perché ce ne sono tanti, se volessero visitare questo luogo possono venire tranquillamente da sole a fare una passeggiata, siamo, abbiamo detto Sant'Andrea di Compito, scusami, Colle di Compito, altrimenti ci sono delle visite guidate che organizzate voi? Sì, noi facciamo delle visite guidate, le mettiamo in calendario in tutte le stagioni perché la gherardesca è molto bella da vedere in tutte le stagioni e si differenzia quindi anche per le specie che ci troviamo, per il contesto che possiamo vedere. Potete trovare le informazioni sulle uscite che facciamo sul nostro sito che è www.officinanatura.org, lì c'è un calendario, stagionalmente facciamo delle visite mirate, a volte per parlare degli uccelli migratori, altre volte per parlare in generale dell'ambiente o della storia. Anche di recente siamo venuti qui con una passeggiata sulla vecchia ferrovia Lucca Pontedera, che è un corridoio verde che lambisce queste sponde, quindi vi invito a venirlo a vedere magari anche con noi. Dal lago della gherardesca ci siamo spostati in comune a Capannoli, siamo in compagnia dell'assessore al turismo Serena Frediani, buongiorno assessore. Buongiorno. Stiamo parlando delle bellezze, la valorizzazione della natura di Capannoli, però vorrei partire con lei da un progetto ed un accordo siglato da poco, un accordo con la terra di Pinocchio, che cosa significa, che cosa avete fatto assessore? Sì, in un'ottica di rete, quindi di promozione dei nostri territori, ma in sinergia anche con i comuni, con i territori vicini, qualche giorno fa abbiamo siglato un protocollo d'intesa con i comuni appunto intorno al brand di Pinocchio, all'immagine di Pinocchio e dei valori universali che Pinocchio comunque porta nel mondo, e abbiamo siglato questo protocollo con il comune di Pescia, Monte Carlo, Porcari, Alto Pascio, Villa Basilica e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Lo scopo naturalmente è quello di una valorizzazione delle colline, del sistema delle ville, dei borghi e le pievi, della zona di San Gennaro, quindi intorno a Pinocchio. E lo scopo naturalmente è la valorizzazione enogastronomica, passando anche da Palazzo Boccella, che è una struttura che si trova in quei luoghi e che ha lo scopo di promuovere i prodotti tipici del territorio e che ospita anche una scuola, la scuola Made, che ha il compito di formare manager dell'accoglienza turistica, quindi proprio in piena sintonia con quello che è la nostra visione turistica d'accoglienza del territorio. Ecco, per entrare un pochino più nel dettaglio, il protocollo, quali sono i punti base? Cioè come si valorizzano questi territori, come si porta il turismo in questi luoghi? Quindi si porta innanzitutto in modo sinergico, valorizzando le nostre colline e chiaramente facendo anche azioni di promozione su quello che è proprio l'immagine di Pinocchio, che sarà testimonial della regione toscana, quindi simbolo della regione toscana a Expo 2015 e che è un valore, un'immagine che veramente parla di noi in tutto il mondo. Assolutamente. Senta, so che c'è un progetto importante, poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane i dettagli li fornirete, però state lavorando a proposito di bellezza ad un progetto importante per i sentieri che attraversano i Monti Pisani e anche i Monti di Capannori. Allora, stiamo portando avanti un altro protocollo d'intesa che dovrà valorizzare tutta la rete dei Monti Pisani, quindi insieme ai comuni intorno ai Monti Pisani portiamo avanti un'iniziativa importante. E poi sul discorso dei sentieri noi stiamo portando avanti un grande lavoro. Infatti abbiamo 200 chilometri di sentieri che abbiamo recuperato e valorizzato equamente distribuiti a nord e a sud sulle nostre colline e questi sentieri sono stati dati attraverso un bando pubblico in gestione per la manutenzione a due associazioni del territorio. La cosa importante è che queste associazioni non solo curano la manutenzione dei sentieri ma anche la loro valorizzazione, animazione e promozione. Quindi questa in un'ottica turistica è molto importante. Insomma, lo possiamo dire, l'amministrazione ormai è quasi un anno, si avvicina all'anno dopo la primavera, uno dei punti cardine dell'attività è sicuramente il turismo e in questa cosa ci credete molto? Assolutamente, sempre in ambito turistico e di valorizzazione del territorio abbiamo anche potenziato, stiamo potenziando la rete informativa turistica. Noi ricordiamo che sul territorio abbiamo tre punti informativi uno all'ex circoscrizione di Marlia, uno all'ex circoscrizione di San Leonardo e un altro presso l'ostello di Vorno. Oltre a questo stiamo predisponendo un'app turistica che partirà a breve stiamo potenziando i punti wifi free sul territorio attualmente sono 21 ma ne sono previsti altri 10 stiamo predisponendo anche due strutture turistiche autogestite dove quindi il turista potrà andare e cercare le informazioni che vuole direttamente una sarà a Lunata e l'altra sarà a Guamo e poi quindi stiamo lavorando molto sulla valorizzazione turistica anche dal punto di vista delle informazioni presto ci sarà anche una struttura molto bella in salice vivo quindi una struttura che prenderà vita e cambierà durante l'anno a Segromigno che si chiamerà Pandora di questo ne riparleremo. Ci ha già svelato questa piccola anticipazione grazie Assessore abbiamo esaurito il nostro tempo ringrazio l'Assessore Serena Frediani grazie a voi per averci seguito Capannori Notizie torna fra sette giorni buon proseguimento grazie a tutti 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 grazie a tutti